Quello che posso darti è una parola. Che donete? Usala con cautela. E cosa inventa? Per fare quello che faccio, devo avere un'idea della minaccia che affrontiamo. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Cerchiamo di evitare la terza guerra mondiale. Non mi sembra l'Armageddon. No. E' peggio. Mi dicono che è interessato a un certo cittadino russo. E tu ti? A che ti servo? Puoi saperlo davvero? Può comunicare col futuro. Viaggio nel tempo? No. Questo è il metodo dei ragazzi mia. Mira e premi il grilletto. Non spari il proiettile. Lo prendi? Ho visto troppo. Beh, cercheremo di stare al passo. Pecci di merda! La missione trascende gli interessi nazionali. Ne va degli equilibri politici del paese. Cazzo! Qui i nostri mondi si scontrano. Come vorresti morire? Preferirei morire in solitudine. Magari in carcere. Allora hai sbagliato professione. Ma chi cos'è? Che è successo qui? Non è ancora successo. Poi preparatemi la bomba che io ora faccio esplodere. Dobbiamo salvarli qui e ora. Bormini libero! No! Con l'inversione del flusso del tempo noi che siamo qui ora non significa che non è mai successo. È tutta una proiezione mentale. Ti portano un tè, un caffè. Andai, vedi? Stanno avanti. Rifacimento, scusate. Ovele. Grazie a tutti.